Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di The Priory of the Orange Tree di Samantha Shannon, ovvero il prorato dell'albero delle arance, che verrà pubblicato in Italia a dicembre da Mondadori, ma che io ho già letto, ovviamente come sapete se avete visto il mio ultimo wrap up, perché Bloomsbury mi aveva mandato a dicembre l'arc, ovvero l'advance rating copy, che però io ho finito una quindicina, una ventina di giorni fa, è questo bestione qua, se è così nell'arc io non oso immaginare come sarà quello definitivo, io non l'ho ancora preso, aspetto la versione italiana devo dire, almeno per ora, comunque, allora visto che nel wrap up vi avevo accenato qualcosina, volevo fare un video discussione un po' più lungo, sarà totalmente spoiler free, quindi potete seguirlo, soprattutto per valutare se può essere un titolo da tenere d'occhio e che potrebbe interessarvi, perché secondo me questo è indubbiamente il fantasy dell'anno, proprio mani basse non c'è assolutamente alcun dubbio e quindi vorrei parlarne con voi, che cosa mi ha particolarmente colpito è perché gli ho dato 5 stelline, che come sapete io non regalo proprio così facilmente. Non partirò dalla trama, nel senso che non ve ne parlerò assolutamente, prima perché è troppo facile fare spoiler e vi rovinerei troppi aspetti del libro e in più io confido nelle vostre capacità di ricerca su Goodreads, quindi comunque giù trovate il link a Goodreads, oltre che il link ad Amazon se volete acquistarlo tramite il mio link di affiliazione. Detto ciò, vorrei parlarvi di questo libro e degli aspetti che soprattutto in positivo mi hanno colpito, ma anche delle cose che invece mi hanno un po' fatto storcere il naso, cioè non so neanche se tenerlo in mano perché è veramente pesantissimo e in più, insomma, non è neanche la copertina definitiva, questo è l'arc, quindi lo vedrete da me e basta probabilmente, quindi... The Priory of the Orange Tree, che d'ora in poi chiamerò solo The Priory, così non devo tutte le volte ripetere tutto sto sbrodolone di titolo, la storia è raccontata da differenti punti di vista, che dovrebbero essere 4, in realtà però sono 5. La prima che seguiamo è chiaramente Sabran, Sabran è la discendente della famiglia di Perenet e regna tramite il suo matriarcato, quella che dovrebbe essere una struttura matriarcale, sul regno di Inis. Poi troviamo Id, che però io dico Ead, non riesco a dire Id, mi impegnerò moltissimo per questo video, che è quella che secondo me in realtà è la vera protagonista del libro, nel senso che è quella che ha più spazio e ha più mobilità durante il libro, che comunque è stata inviata segretamente a proteggere Sabran. È una delle sue dame di corte, però in realtà nasconde parecchie cose, perché infatti ha dei poteri magici ed è stata inviata proprio nel regno di Inis dal priorato dell'albero delle arance, che si dovrebbe dire arancio in italiano, ma ormai ci sto facendo l'abitudine per la risonanza del titolo. Chiaramente Id tiene tutto ben nascosto e non svelerà mai nulla, finché non sarà costretta a farlo. Poi seguiamo anche la storia di Tanè, che è una giovane e molto esperta, molto brava, che aspira ad essere una dragon trainer, ovvero un'allenatrice di draghi. Non so come suona in italiano, ma ci devo fare un po' l'abitudine anche io. E abita in un regno molto distante da Inis, che si trova ad ovest, e infatti Tanè sta ad est. E Tanè aspira a cavalcare i draghi dell'acqua, che in questo regno sono venerati, dopo vi spiego qualche dettaglio proprio riguardo a questo. E poi c'è Loth, che è uno degli amici più stretti e più cari di Sabra, che viene però esiliato praticamente, potremmo dire, da uno degli uomini più potenti a corte, e viene spedito su un'isola dove si venera The Nameless One, che è il cattivo della nostra storia, e quindi è già molto inquietante. E poi seguiamo anche quelli di Nicholas Ruse, che è un dottore, che in realtà però più che un dottore è proprio un alchimista. E anche egli è stato esiliato nello stesso regno dove troviamo Tanè, ed ha un sogno, questa chimera che continua a rincorrere fin da quando era al servizio proprio della regina Sabran, e per realizzarlo è proprio disposto a tutto. Come già potrete intuire da queste prime informazioni che vi ho dato sui nostri personaggi, quella che è la storia racchiusa dentro The Priory è veramente una trama molto ricca, molto complessa per alcuni versi, ma è una trama molto bene intrecciata, una trama che pur partendo da punti molto distanti o senza avere ben chiaro tutti gli elementi, man mano si ricollega, si intreccia e cambia, si trasforma, si evolve, e tutti questi eventi che sembrano distaccati tra di loro e completamente distanti acquisteranno grande forza, proprio nel momento nel quale i collegamenti tra queste storie risulteranno palesi. Quindi da The Priory immaginatevi una struttura simile a quella di Game of Thrones, e anche se devo dire una cosa allo zio Martin, mi dispiace, io gli voglio un sacco bene, ma Samantha Shannon scrive molto meglio di George Martin, e mi dispiace dirlo perché io sono una grandissima fan, però immaginatevi proprio questa struttura con moltissimi regni, tantissimi personaggi, quindi un cast vastissimo, che se noi già ne seguiamo 5 ce ne sono davvero molti altri, anche se devo dire che non è così dispersivo come Game of Thrones. Ogni regno infatti ha la propria storia, la propria mitologia, la propria religione, eccetera, e noi li scopriamo mano a mano e dobbiamo disvelarli un po' tutti, e soprattutto è una storia che si baserà non solo sul problema da risolvere fondamentale, ma soprattutto ci metterà di fronte a una serie di intrighi politici che non solo riguardano i vari regni e le lotte tra di loro, ma soprattutto riguardano ciò che succede all'interno di ogni singolo regno. Cosa è detto, cosa non è detto, cosa si sa e cosa non si sa, chi nasconde cosa? Questa è la parte che per me è risultata molto interessante, più interessante, ma se mi seguite da un po' sapete che io è la cosa che preferisco nei fantasy, fondamentalmente mi interessa poco altro se non di svelare tutte queste cose nel sottofondo. Penso che per chi non sia un grande adepto del live fantasy, questo sia un ottimo modo per cominciare, perché ha una scrittura molto fluente, molto scorrevole, e insomma ti introduce ad un mondo che è veramente molto in alto dal punto di vista del fantastico, ma trovo che abbia degli elementi che lo rendono molto leggero come modo per avvicinarsi a questo genere. Insomma, se state scegliendo tra questo e il Signore degli Anelli, forse questo è un po' più utile per introdursi all'ambiente high fantasy. Il Signore degli Anelli è uno step un po' più in là. Altra raccomandazione che faccio subito è non vi fate intimorire dal mattonazzo che è. È vero che ci piacciono i libri grossi e non possiamo mentire, ma è un po' uno degli aspetti verso il quale ho visto più riluttanza da parte della community di lettori. Non vi fate spaventare perché davvero, vi racconto la mia esperienza, innanzitutto è molto scorrevole, non è un libro pesante, è un libro dove bisogna venire a contatto con tante informazioni, quello è vero, però a metà di questo libro la vostra vita dipenderà da ciò che viene scritto nelle pagine successive, perché verrete completamente assorbiti dalla narrazione, anche molto prima della metà, devo essere sincera. Sono certa che vi sorprenderà molto. E invece torniamo ai personaggi che sono quello da cui io sono partita, perché secondo me danno un punto fondamentale. Come vi dicevo prima, i nostri personaggi si trovano ad affrontare un grande problema. Il grande problema sono questi draghi, che non sono i draghi di mare che cavalca Tanè, ma proprio i nemici anche dei draghi del mare, ovvero i draghi che vengono generati dal fuoco, che vivono nelle viscere della terra e che duemila anni prima avevano causato The Great Sorrow, ovvero una guerra che aveva quasi distrutto l'umanità e per un soffio l'umanità è riuscita a scacciare The Nameless One, quello che era lo scuro che non ha nome, questo drago gigantesco e potentissimo, che però erano riusciti a sconfiggere, momentaneamente però. Quindi ci troviamo di fronte dei personaggi che si affacciano a una grossa novità, The Nameless One sta tornando e minaccia il loro regno. I personaggi che noi incontriamo sono dei personaggi molto variegati, molto diversi tra di loro e sono caratterizzati veramente molto bene, è uno dei punti forti del libro chiaramente. Lo sviluppo dei personaggi va proprio di pari passo con l'evoluzione della storia, non solo crescono, ma si approcciano proprio a delle difficoltà diverse e man mano cambiano i loro obiettivi in base a dove ci troviamo nella storia, nella narrazione. Non ci troviamo mai in maniera molto statica in un unico punto. Gli obiettivi stessi dei personaggi proprio si trasformano, si devono adattare a ciò che sta succedendo, non sono gli avvenimenti che si adattano ai loro obiettivi, che è quello che secondo me è molto importante da tenere presente quando si scrive un libro fantastico, ovvero, fantastico non nel senso meraviglioso, fantastico fantasy, scusatemi. Quello che intendo è che di solito si cerca di forzare un po' il contrario, in questo caso i personaggi devono reagire a ciò che gli succede, devono essere pronti a trasformarsi e lo fanno veramente molto bene, in questo è brillante la Shannon. E proprio questa loro evoluzione, questo modificarsi dei loro obiettivi, fa scoprire a loro tantissime cose su loro stessi, in primis, e li porta a confrontarsi anche con diverse scelte che prima non avevano considerato, con il rivalutare le proprie priorità che cambiano, perché devono cambiare, sono costretti a cambiarle, e devono farlo proprio per adattarsi a ciò che sta avvenendo, quindi se non cambiano rotta, non cambiano obiettivi, e non si danno nuove priorità, moriranno, non riusciranno a rimanere in vita. E questo è proprio uno degli aspetti che ho adorato del libro, perché non troviamo mai dei personaggi statici, fissi su loro stessi, sono dei personaggi che purtroppo sono sballottati da un punto all'altro, vengono completamente sommersi dagli elementi, dagli avvenimenti, da ciò che gli sta accadendo intorno, e cose che non possono controllare, e l'unico modo per reagire a queste cose è proprio cercare di modificarsi, cercare di capire qual è la propria strada, pur non cambiando mai, che questa è una cosa importante, non bisogna mai cambiare la caratteristica fondamentale dei personaggi, loro riescono ad evolvere, loro riescono a ridefinirsi, senza perdere tutto ciò che li caratterizza, tutto ciò che li rende quel personaggio o quell'altro. Ad esempio, io amo molto Id, che è veramente il mio personaggio preferito all'interno della storia, che non è un personaggio che parte in un modo e finisce esattamente sullo stesso punto, ma compie un'evoluzione che non sempre è quella che lei si aspetta, non sempre è dove vuole andare, ma anzi si trova costretta a ridefinire il proprio percorso, anche a fare scelte difficili, che non sono quelle che accontentano il lettore, o che si aspetta subito il lettore. E soprattutto questa complessità della trama viene sorretta da un mondo veramente costruito in maniera eccellente, in maniera molto molto solida, è scrupolosamente dettagliata e ben studiata, in modo che tutto regga alla fine, ci viene presentata non sbattuta davanti agli occhi, come se fosse tutto lì, una serie di informazioni, ma anzi, piano piano, noi veniamo a conoscenza di tutti gli aspetti, che in qualche modo non devono giustificare la scelta del momento, ma anzi, questi aspetti in realtà rendono ancora più credibile tutto ciò che è avvenuto prima, rendono ancora più forte ciò che sapevamo fino a quel momento. Infatti la Shannon riesce comunque a rendere qualcosa di abbastanza snello, che non è pesante nello scoprire tutto il mondo, il sistema magico, gli ambienti, i personaggi, la mitologia che c'è dietro a questo mondo, senza essere pesante, senza farci sorbire dei pipponi lunghissimi. Spoiler, ce n'è due piccolini, che a me non hanno dato eccessivamente fastidio, capisco che per l'economia del libro lì ci volevano, non c'era proprio altro modo da fare, però vi devo dire che per il resto, in realtà tu vieni immerso in un mondo che scopri pian piano, scopri pian piano che cosa significa questo, perché si sta venerando una certa cosa, sistema religioso, non sono tutta una serie di informazioni che ti viene sbrodolato davanti. E soprattutto fa una cosa che io amo, ovvero preferisce mostrare, raccontare proprio nel momento in cui avviene o facendotelo vedere attraverso i suoi personaggi, le azioni, ciò che succede, piuttosto che raccontartelo e basta. Nel senso che non è la classica narratrice che ama raccontare un sacco e non farti mai vedere quello che ti sta raccontando, anzi, proprio praticamente, ci troviamo immersi in questo mondo che scopriamo solamente quando lo vediamo. Ogni tassello del world building, infatti, viene aggiunto piano piano nella storia. Tutto si compone, neanche troppo lentamente, ma si compone perché gli avvenimenti ti costringono a confrontarsi con tutte le problematiche di questo mondo, con tutto il sistema magico e con anche le creature e la mitologia che lo compongono. Però, ripeto, non è un libro pesante da questo punto di vista, non è il classico libro pieno di spiegoni, ce n'è davvero due. Il resto della narrazione è veramente fluida, fluida, fluida e leggera. E io, è un aspetto che apprezzo ed è anche uno dei motivi per cui io questo libro l'ho amato, ero schiava di questo libro. Per costruire questo world building così forte, poi c'è una cosa che magari passa per tantissimi in secondo piano, per me non lo è stato assolutamente, ma c'è una ricerca davvero molto dettagliata e minuziosa sull'etimologia di tutte le cose, sia sulle creature, c'è uno studio molto intenso delle creature, ma anche per nominare un determinato aspetto, la magia, alcuni oggetti, alcune cose, alcuni aspetti della vita. C'è una ricerca davvero molto minuziosa e questo io l'ho apprezzato molto perché spesso viene dato per scontato, spesso viene distorto in maniera non troppo precisa e invece la Shannon ha studiato tanto e si vede. Tutti i concetti sono infatti espressi con estrema premura e infatti tutta la mitologia che sta dietro a The Priory fa apparire davvero tutto molto credibile all'interno di questo universo. perché le fondamenta della mitologia sono sufficienti a giustificare tutto ciò che succede, a scatenare gli eventi e a disvelare man mano la propria complessità, quindi un mondo che si espande, non si stringe, non cambia direzione, ma tra i due si espande, ma non in maniera diciamo funzionale, in maniera comoda per i protagonisti e per la risoluzione della storia, ma anzi, è tutto molto fisso, è molto stabile, però cerca di diventare sempre più ricco. L'altro aiuto molto forte che arriva per la costruzione del world building è quello del sistema religioso, ovvero è molto credibile, è realistico, perché ogni regno infatti ha la propria visione della religione, che da un lato ha degli elementi in comune, perché comunque i draghi sono proprio le fondamenta di queste religioni differenti. In alcuni casi vengono del tutto steggiati, vengono considerati il male totale, in altri vengono venerati come dei, nel bene o nel male, dipende da dove ci troviamo geograficamente. In più, tantissimi di questi regni condividono una, diciamo, genesi molto in comune, dove vengono presi in considerazione un cavaliere e una dama, che hanno, diciamo, sconfitto The Nameless One 2000 anni prima, e però ogni religione, ogni regno, ne dà un'interpretazione diversa, parecchio in contrasto l'uno con l'altro. E questi aspetti sono molto realistici, perché ricordano ovviamente le grandi religioni monoteiste, ovvero il sistema cristiano, il sistema giudaico, il sistema islamico, infatti hanno tanti punti in comune, che poi sono sviluppati in modo diverso, però ha esattamente lo stesso identico meccanismo, e quindi risulta molto forte, molto reale anche la religione all'interno di questi regni. Ed è bello vedere anche come il rapporto con i draghi sia diverso, proprio per l'approccio che si ha. L'Ovest, dove sta Sabran, ha paura, paura totale dei draghi, e sa che Sabran è l'unica che li può difendere dai draghi. Questo mondo, essendo Sabran la discendente di questa dinastia, che si dice che proteggerà il regno, finché regnerà e avrà della discendenza, il Nameless One non potrà mai tornare. E noi ci troviamo proprio in questo momento critico, Sabran non ha eredi, non ne vuole avere, e insomma, The Nameless One sta tornando. In questi aspetti proprio vediamo come ci siano tantissime proiezioni della nostra realtà, delle nostre turbulenze, delle nostre religioni, del nostro sistema politico, e come questi aspetti ricalchino la nostra realtà, ma vengono trasportati in un universo fantastico. Altro aspetto che va a comporre il world building, è chiaramente il sistema magico, che potremmo identificare su due aspetti principali, volendo tre, ma facciamo due. Il primo è sicuramente la presenza delle creature, che per lo più sono draghi, quindi vediamo e abbiamo tantissimi contatti con i draghi, più che contatti, magari leggende sui draghi, presenza di draghi, paura dei draghi, che sono però elementi molto forti, molto tangibili all'interno della narrazione, perché chiaramente questa paura, è qualcosa che condiziona la vita dei regni, delle persone, e dovrà essere il motivo scatenante per riuscire ad allearsi tra i vari regni, o cercare una soluzione per sconfiggere definitivamente il nameless one. Però non vediamo solo la parte cattiva dei draghi, vediamo anche quelli d'acqua, che sono quasi venerati come delle divinità, e che rappresentano tante altre cose, tanti altri aspetti, secondo me non così interessanti come avrebbero potuto essere, sono molto sincera, però comunque la loro presenza dà molto colore. Però oltre ai draghi vediamo altre creature, che sono alleati degli umani, lavorano per gli umani, sono comunque in contatto con l'umanità, nel bene o nel male, anche in questo caso. E la varietà di creature presenti, che sono draghi, viverne, eccetera, eccetera, è molto ricca, è una cosa che sicuramente crea molto colore all'interno di questo mondo. L'altro aspetto magico sono invece i poteri, che sono dati in mano alle persone. Da un lato ad esempio c'è quello dell'albero delle arance, quello che poi racchiude il priorato, che però non andrò oltre perché è tutto grande spoiler, però ci sono anche degli oggetti magici, che sono, come vedete, anche qualcosa che ricorda il fantasy più classico, degli elementi che richiamano molto il fantasy più classico. E proprio per questo, c'è un appunto molto importante da fare, ovvero che questi elementi infatti, danno possibilità alla trama, di non essere timida, nel richiamare tutti questi topoi classici, del fantastico. Sono poi dei troppo, dei topoi, che sono davvero molto, molto triti e ritriti, abusati in certi casi. Ma vi devo dire che questo è l'aspetto che io ho di più apprezzato personalmente per un motivo. Se mi seguite da un po' sapete che io gli stereotipi, i troppo, eccetera, non li sopporto, perché spesso vengono semplicemente replicati, senza dare una visione personale a questi elementi. Sono dinamiche che si ripetono pedissequamente in maniera molto sterile, senza aggiungere mai nulla. Invece, la Shannon, e qui, secondo me, è brillante, non lo è perché rivoluziona il fantasy, come è stato detto da tantissimi, vabbè, è una campagna di marketing, devi venderlo, dice così, ci sta. Secondo me la Shannon è brillante, perché prende questi stereotipi, questi archetipi della narrazione fantastica, li inserisce nella sua narrazione per dargli una veste molto nuova. Queste dinamiche sono nettamente rinfrescate all'interno della narrazione. Li sfrutta, infatti, come punti di partenza per poi rinnovarli all'interno di The Priority e non li inserisce solo per riprodurre meccanicamente una serie infinita di cose già viste. Diciamo che se vi aspettate un high fantasy fuori da ogni cardine del genere, non è questo il caso, anzi, rivedrete tantissimi elementi già noti e tutti questi archetipi vengono però ripresi in maniera brillante, intelligente e molto attuale dalla Shannon, che riesce a ribaltarli, a sfruttarli in maniera intelligente, proprio per dare nuova luce e vita sia ai personaggi che anche a tutta la narrazione. Per dire, vi faccio alcuni esempi, c'è il classico stereotipo, che non è forse del fantasy, però c'è lo stereotipo dell'amico gay, la spalla comica, eccetera, eccetera, che sicuramente c'è, ma viene completamente modificato in alcuni casi, pur essendo quel tipo di stereotipo, in realtà, prima non è un amico probabilmente gay, non si sa, ma è qualcuno che ha un certo peso nel mandare avanti la storia. C'è ad esempio l'archetipo dell'eroe, che in questo caso non solo cambia genere, diventa un'eroina, ma è anche un eroe che rifiuta in parte il proprio ruolo, che rifiuta le imposizioni che dovrebbe avere per il bene superiore, ma che in qualche modo pensa anche a sé, è in qualche modo molto egoista, e soprattutto rifiuta di combattere da solo, non si addossa tutta la carica della grande impresa, ma la condivide e ha bisogno di sostegno per portare a termine qualcosa che è chiaramente più grande di se stesso, di un'unica persona. In parte contraddice quello che è, insomma, quello che dovrebbe essere un ruolo già scritto, un destino già tracciato per lei da qualcun altro, in realtà viene completamente rifiutato a questa cosa. C'è ad esempio la classica ragazza che in qualsiasi altro libro sarebbe stata una strong female character, ovvero una ragazza forte, davvero estremamente brava sia nel combattere che nell'usare i poteri magici, eppure dall'inizio alla fine non risulterà mai una strong female character, è una persona che fallisce, che viene fregata, che mille volte si trova di fronte a delle scelte molto difficili, e che è diventata davvero una delle mie protagoniste preferite, perché a un certo punto deve prendere delle decisioni, compie un'evoluzione molto molto sottile, ma complessa anche all'interno della psicologia del personaggio. Poi, per esempio, dall'altro lato c'è questo potere oscuro che deve tornare, che è un classico archetipo della narrazione fantastica, c'è un grande male da sconfiggere, c'è questo oscuro male, oscuro, senza nome, che sta tornando. Ci sono le creature, ci sono gli oggetti magici, insomma, come vedete, gli archetipi del fantastico, sono presenti in abbondanza, ma la Shannon è brillante, non nel non metterli, chiaramente, perché qua ce ne è tantissimi, ma nell'innovarli, nel renderli qualcosa di fresco, e nell'utilizzarli in maniera originale, dosata, sapiente, riuscendo a renderli anche attuali, espressione di qualcosa di attuale. Ovviamente, questo libro è diventato molto famoso, soprattutto nel marketing, per come è stato venduto, eccetera, come è, per quelli che sono gli aspetti della rappresentazione. Ci sono dei messaggi molto vivi dentro questa narrazione, che sono netti, sono molto chiari, ma non sono mai retorici, che è una cosa che a me è piaciuta chiaramente molto. Manda dei messaggi tramite la storia dei propri personaggi, quello che compiono, ciò che hanno perso, ciò che ritroveranno, ciò che scopriranno, senza mai risultare una lezioncina, un compito, ma anzi, cercando proprio di mostrare la parte più umana di certi messaggi, come queste cose facciano parte proprio di noi stessi e come forse siano cose che noi scopriamo, che siano aspetti che noi scopriamo solo evolvendoci, solo crescendo. È pieno di diversità, di affermazione personale, di autodeterminazione, di fallibilità, insomma, ma sono aspetti che io ho molto apprezzato per come sono stati espressi. Diciamo che non sono stati sbattuti lì davanti al lettore, giusto per dire, li abbiamo messi tutti, abbiamo messo la diversità, abbiamo messo il femminismo, abbiamo messo questo, abbiamo messo quell'altro, così abbiamo fatto tutti contenti e vi abbiamo dato una lezioncina. Ma anzi, ogni personaggio che porta con sé un bagaglio sia culturale che di esperienza, proprio si trasforma e rende l'autenticità di questi elementi proprio grazie alla propria storia. E tutti i messaggi non sono sbattuti in faccia al lettore, non sono messi lì per poi contraddirsi quattro capitoli dopo, ma sono una lenta evoluzione che costruisce la psicologia di un personaggio. Infatti, sono tutti componenti strutturali che arricchiscono questo mondo, che fondamentalmente sono fondanti, sono di scoperta, sono qualcosa che arricchisce e definisce i personaggi, non delle imposizioni sui personaggi. Assistiamo poi a una relazione che ho trovato bellissima, molto intensa e brillante, che mi è piaciuta non tanto per gli aspetti di avvicinamento che sono sicuramente molto realistici, ma soprattutto perché è una di quelle relazioni che io trovo molto vere, molto realistiche. Ci sono delle difficoltà, ci sono anche cose, agenti esterni che esulano dal nucleo della relazione, ci sono cose che succedono all'esterno che modificano il percorso di questi due personaggi, che li obbligano a fare scelte che magari non sono quelle che ovviamente il lettore vorrebbe leggere, ma perché ci sono troppo spesso nella vita reale cose più importanti forse di un'unica relazione con le quali ci dobbiamo confrontare e ad esempio i due personaggi devono vivere una separazione forzata, vivono poi un riavvicinamento, il forte aspro che contraddistingue questo abbandono, questa separazione, ma tenendo presente soprattutto che non si gioca solo sugli equivoci, sul non detto, ma ci sono emozioni reali, situazioni che ti costringono a vivere queste cose e non so, io l'ho amata veramente, tanto mi è piaciuta molto, ci sono proprio queste emozioni molto crude come la rabbia, il coinvolgimento, lo smarrimento, la sensazione di essere traditi, cioè, è molto molto bello, molto molto intenso secondo me, ma veniamo alla parte Miss Fiction, ovvero quella dove io vi elenco a grandi linee le cose che secondo me sono i difetti principali di questo volume, alcuni forse li avrete già colti, però diciamo che in generale secondo me uno dei difetti principali di questo volume è che in alcuni momenti si sono adottate delle soluzioni un po' sbrigative, soprattutto quelli dove sarebbe stato necessario un'intensità un po' maggiore una spinta un po' maggiore ci sono delle soluzioni un po' faciline che secondo me potevano essere risolte tra i due con qualche pagine in meno di altre cose poche perché è molto difficile è un libro molto denso e dall'altro lato diciamo magari allungando di qualche pagina che un centinaio di pagine in più secondo me non avrebbero cambiato nulla e in generale questo libro a mio parere aveva risentito moltissimo di ciò che gli era stato affibbiato prima ovvero questa sorta di libro che rivoluzionà il mondo del fantasy e questo è sbagliato non per il libro in sé perché il libro in sé secondo me è un ottimo libro però è stato sbagliato come è stato venduto questo non è un libro che rivoluzionerà il fantasy ma è un libro che prende degli elementi archetipici del fantasy e li rinfresca gli dà vita nuova e questo è importante qua sta la brillantezza di questo libro ed è qui che The Priory of the Orange Tree è originale altro aspetto che non mi ha convinto a fondo è che il regno di Sabran viene presentato come questo grande matriarcato che si fonda su leggi matriarcali e questo è falso questa è una delle balle più grosse che sono state dette su questo libro che comunque vengono contenute all'inizio che in realtà secondo me è un modo per mascherare in parte ciò che sta sotto ovvero presentartelo come un matriarcato ma vedere che in realtà subisce praticamente tutti i difetti che hanno delle strutture piramidali guidate dagli uomini perché in fondo è esattamente così non è un matriarcato c'è solo una regina al potere ma tutto il resto non è in mano alle donne le donne hanno dei ruoli sociali molto definiti non possono fare nulla sono tendenzialmente serve dame di compagnia non hanno ruoli di potere non hanno ruoli dirigenziali se non in pochissimi casi che esulano altro difettuccio secondo me ce l'ha la timeline ovvero secondo me in molti punti essendo tutte storie ovviamente che ci mostrano un punto di vista diverso a volte la timeline traballa vi faccio un esempio a volte Sabran ci racconta un punto di vista che sembrano passare mesi tra il capitolo precedente e quello successivo mesi e mesi poi ritrovi Loth e Loth ti racconta qualcosa che invece scorre nell'arco di tre giorni e questa cosa un po' strana a volte ci sta perché è spiegabile con l'economia della narrazione far vedere alcuni punti che vanno avanti però secondo me è comunque un difettino che c'ha questo libro l'altro dubbio che io ho in generale è sul personaggio di Tanè ovvero secondo me Tanè è il personaggio da un lato più forte e più debole del libro nel senso che la sua storia è una storia che letta singolarmente ha una struttura molto solida presa singolarmente ma all'interno della narrazione sembra quasi che sia stata costruita per tappare quei buchi o per giustificare alcune cose che magari senza il suo personaggio non avrebbero avuto senso sembra quasi aggiunta in seguito oppure sembra quasi che la sua fosse una storia che era stata già delineata e che aveva seguito un determinato corso poiché è stata incastrata in questa perché sembra proprio da un lato scritta molto diversamente rispetto a tutto il resto dall'altro lato proprio fino a quasi tre quarti del libro si fatica proprio a congiungere la sua storia e lì arriva lo spiegone perché fino a quel momento non era stato dato e questo è stato strano per me non è così riuscito il personaggio di Tanè che magari preso singolarmente è molto solido ha una storia molto interessante e anzi è un personaggio che ad esempio è quello che ci fa vedere il rapporto con i draghi e come per lei sia importante ma poi è molto sparso perché chiaramente bisogna concentrarsi prima su altri aspetti ecco questo ultimissima cosa che secondo me è un difetto ma è un difetto che io noto qui come noto da tanti anni in tantissimi fantasy soprattutto quelli per ragazzi in questo caso questo non è un fantasy per ragazzi secondo me allora per tutto il libro noi veniamo a contatto con questo concetto che nameless one sta arrivando cioè questo terrore questa piaga che sta seminando il panico che crea tutti i problemi di questo mondo di questo universo un po' tipo un po' tipo Saruman ecco definirei così c'è questo occhio che sembra che stia lì per arrivare da un momento all'altro ma poi non vi farò spoiler però mi ha molto deluso questa parte ci avrei voluto vedere più forza uno dei difetti che sto notando di più è nella creazione proprio eh ma non faremo spoiler diciamo che non mi ha entusiasmato però diciamo che finché non si arriva lì come me rimarrete fregati e quindi tranquilli detto ciò ok piccolo riassunto di informazioni su The Priory giusto per darvi qualche spunto The Priory of the Orange Tree non è un libro fantasy per ragazzi è un libro che io avevo definito ingenuamente new adult nel senso che secondo me ha quella struttura che non è sicuramente da fantasy da adulti ma nemmeno per ragazzi è una sorta di via di mezzo ecco perché infatti il linguaggio in lingua originale è un linguaggio inglese intermedio nulla di inaffrontabile presenta solo una serie molto densa di nomi di definizioni eccetera altra cosa che chiaramente al contrario libri molto descrittivi qua chiaramente ogni singola riga ti costruisce un pezzettino di mondo quindi non puoi neanche perderti ci vuole abbastanza concentrazione quello sicuramente detto ciò però sono abbastanza convinta nel dire che The Priory è un libro bellissimo a me è piaciuto molto mi ha molto appassionato e questo chiaramente per me è molto importante è un libro che è molto coinvolgente è molto ricco e questo lo rende estremamente piacevole da affrontare vi dicevo io sono io quindi io i difetti li troverò sempre non posso non trovarli ma vi dirò che comunque i difetti non saranno mai paragonabili a tutti i pregi che questo libro ha tutte le cose piacevoli di questo libro i punti forti del libro schiacciano proprio 100 a 1 tutti i difetti e per quello secondo me è un ottimo fantasy è un ottimo libro che chiaramente come tutti i libri qualche difettuccio ce l'ha come tutti i libri buoni come tutti i libri ottimi qualche difettuccio ce l'ha non è immune chiaramente ma è evidente che questo sia un titolo attesissimo e giustificato nella sua attesa perché è veramente bellissimo a me è piaciuto molto banalmente io non le dico mai queste cose di solito cerco di essere un po' più però veramente sono stata settimane trascinata da questo libro ci ho messo tanto perché a me lo volevo godere cioè volevo metterci proprio tutta l'attenzione del mondo e è stato bello ho anche passato due settimane di slump grazie a questo libro finito che mi ha causato molto fastidio perché non volevo che finisse e non avevo letto nulla di che per fortuna sto leggendo Night Circus detto ciò io spero che questa recensione un po' delirante che è stata difficilissima da fare per me perché non darvi spoiler è stato come camminare sui carboni ardenti è stata la recensione più difficile di questo canale detto ciò io spero a di non avervi fatto spoiler b che la recensione vi sia piaciuta chiaramente e che insomma di avervi invogliato a leggerlo davvero questo è a mani basse il libro più bello che ho letto quest'anno e vediamo cosa arriverà nei prossimi mesi sono veramente molto entusiasta di questa lettura ve lo consiglio tantissimo uscirà in Italia per Mondadori a dicembre quindi insomma se non avete voglia di provare a leggerlo in inglese perché capisco che sia un po' impegnativo quanto o meno non è difficile comunque a livello di lingua non pensate però io ve lo consiglio caldamente e niente io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato questo delirio che sarà lunghissimo ovviamente e direi che noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao